E giallo a Maruggio per il ritrovamento del corpo carbonizzato di un uomo all'interno di un'auto. L'allarme è scattato alle prime ore del mattino da persone che abitano nella zona notando il fumo. Quando sono giunti sul posto i soccorsi per l'uomo non c'era più nulla da fare. I vigili del fuoco, del distaccamento di Manduria, hanno domato l'incendio e scoperto il corpo. La vecchia Ford Escort, divorata dalle fiamme, si trovava in una zona impervia, alla periferia sud della paese, incontrada a Montalto. All'interno il corpo senza vita di un anziano di 84 anni originario di Manduria. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Manduria, Maruggio, del nucleo investigativo di Taranto, con gli uomini della sezione scientifica, hanno fatto partire subito le indagini per appurare quanto accaduto. I militari hanno acquisito anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate sul cancello di un'abitazione della zona. Al momento non si esclude nessuna pista, compresa quella del suicidio. La Ford Escort avrebbe attraversato un percorso poco praticabile in auto. I vigili del fuoco hanno avviato le perizie per verificare la presenza di liquido infiammabile. Stando a quanto si è appreso, la vittima sarebbe uscita di casa alle 7 del mattino, per recarsi come faceva di solito nella sua podere, che comunque non è vicino al luogo del ritrovamento. Le indagini sono coordinate dal Pubblico Ministero Filomena Di Tursi, della Procura di Taranto, che ha effettuato un sopralluogo.